Avrebbero imposto con le minacce e la forza ad alcuni imprenditori le persone da assumere ma anche scelte da fare, come ad esempio interrompere la vendita di carni. Così un gruppo criminale legato al clan Spartà teneva sotto scacco la zona di Messina Sud, nella parte di Santa Lucia sopra Contesse. Sono state arrestate otto persone, accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni e violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale, tutti aggravati dal metodo mafioso. Per sette persone è stato disposto il provvedimento di custodia cautelare in carcere, eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Messina. Secondo gli inquirenti, il gruppo mafioso sarebbe stato capace di interferire e di condizionare l'attività di alcuni imprenditori messinesi, non solo imponendo assunzioni di personale indicato dai sodali, ma anche imponendo loro le scelte imprenditoriali. In particolare è stato accertato nel corso dell'inchiesta come, per eliminare del tutto la concorrenza al bar Il Veliero, riconducibile a Saromessina, un pasticcere sarebbe stato obbligato ad interrompere la vendita di bibite e caffè all'interno della propria pasticceria, adiacente al bar, poiché, a giudizio degli odierni indagati, sarebbe stato responsabile di un calo degli introiti. In un ulteriore episodio, un imprenditore attivo nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, sarebbe stato costretto, con violenza e minaccia, ad interrompere le forniture di carni e lavorati di macelleria ad alcuni ristoranti cittadini, per favorire la nascente attività di macelleria di uno degli indagati. Altra fonte di intromissione nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale delle vittime sarebbe stata individuata nella consuetudine di imporre l'assunzione presso i loro esercizi commerciali di parenti e conoscenti degli indagati, oltre che di impedirne il licenziamento. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una complessa attività di indagine, convenzionalmente denominata Polema, avviata nell'ottobre 2014, che ha preso le mosse dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Daniele Santo Vito. Così sarebbe stata provata l'esistenza di un gruppo mafioso, attivo nella zona sud del capoluogo peloritano e riconducibile al Giacomo Spartà, ininterrottamente detenuto dal 25 marzo del 2003, capo dell'ononimo clan e gemone nel racket dell'usura e delle estorsioni in danno a commercianti ed avventori di sale scommesse, i cui proventi avrebbero concorso ad alimentare la cassa comune del gruppo mafioso.